In atteso fuori programma in piazza Municipio a Caltagirone con il pacifista Turi Vaccaro, da anni impegnato nella lotta contro l'installazione del muostro di Niscemi, che partito con un asino lo scorso 12 marzo da Partinico in provincia di Palermo, sarebbe dovuto giungere il 4 aprile a Niscemi. Il quadrupede e il pacifista viaggiano dunque con 19 giorni di ritardo. In ricordo del cammino di Gandhi, chiamato la Marcia del Sale, il 12 marzo siamo partiti da Palermo e dovevamo arrivare il 4 aprile, che c'era la grande manifestazione di Niscemi, ma non ce l'abbiamo fatta. Così arriveremo sabato 25 aprile, che è il giorno della liberazione, per dire no al muos e no alla guerra. La presenza dell'asino in piazza Municipio è stata anche un momento di forte attrazione per cittadini e turisti e per l'occasione anche di un gruppo di ciclisti che ne hanno approfittato per alcune pose fotografiche. Alla fine, foto ricordo dinanzi al Palazzo di Città.